Jacopo, ieri non ti abbiamo beccato, ti becchiamo oggi, allora tanti in Italia si sono chiesti cosa è successo. Dai ce lo spieghi in maniera molto serena perché insomma è una gara secca e può succedere di tutto. Sì, è partita molto bene e poi è andato parecchio storto e alla fine non era la mia gara. E dire con la severità sono molto deluso però cerco di rifarmi e migliorare. Una stagione però partita male perché ti sei fatto male subito ma che hai saputo comunque risollevare con una maglia di campione italiano che ti porti per tutta la stagione fino al prossimo anno. Quindi guarda anche questo perché comunque sei campione italiano elite e quindi prossimo anno la puoi vestire senza problemi. Qual è il tuo bilancio fino ad oggi? Qual è stata la gara di cui sei più soddisfatto di questa stagione? Rientro in Coppa Namur che lì mi piaceva molto il porcorsi, andavo molto forte e ho ottenuto un bel podio e sono contento di quella gara. Poi il periodo di Natale è andato molto bene con Dighem, Zollor ma quasi tutte le gare erano positive per la mia stagione a parte questa e non me però dai la maggior parte è andata bene e sono contento. Quest'anno per te è stato un po' il debutto anche con gli elite in ambito internazionale. Innanzitutto se ti è piaciuto, tu sei un atleta molto polivalente, hai vinto praticamente nelle categorie giovanili un po' dappertutto su strada, in mountain bike, nel ciclocross. Jacopo Dorigoni ha deciso cosa vuole fare adesso da grande? Eh no, sicuramente il ciclocross mi piace tanto e poi correre con gli elite a me piace ancora di più perché lì non guardi in faccia nessuno e cerchi di portare a casa il miglior risultato possibile e vai a tutta e cioè io mi diverto molto. Quindi continui a divertirti in bicicletta, questo è molto importante, per tutti quelli che ci seguono che consiglio vuoi dare ai ragazzi che si stanno approcciando al ciclocross, che si divertono nel ciclocross e che magari arrivano con il tuo background, vincono eccetera, ad un momento dove bisogna fare una scelta. Tu consigli comunque, è possibile fare il cross fatto bene e conciliarlo poi con le altre attività? Sì, il mio consiglio è fate quello che vi piace e divertitevi. Grazie! Grazie a voi, ciao!